Sì, io ho chiesto di intervenire prima solo per un motivo di tempi, mi era stato detto che sarei dovuto intervenire al mezzogiorno alle 12, poi come è normale cada slitta ma preferisco dare delle indicazioni di massima, di strategia su quello che il governo intende fare in questo settore fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e produttivo del nostro Paese. E mi limiterò a questo nei pochi minuti di tempo per capire e far capire come il governo si muoverà, partendo da un ricordo che fa parte della mia lunga esperienza politica e parlamentare. Io ero in commissione trasporti e telecomunicazione, scelsi questa commissione nell'avvio della mia esperienza parlamentare nel 1994 e mi trovai allora di fronte ad alcune questioni decisive per gli assetti futuri del Paese, uno dei quali era il progetto Socrate, che a me apparvi allora una cosa estremamente importante, eravamo all'avanguardia nel mondo? Bene, ero ricommessi allora dall'avanguardia nel mondo, siamo diventati la retroguardia dei Paesi sviluppati dell'Europa. Ero in quegli anni lì quando fu fatta la privatizzazione di telecom, era una delle più grandi imprese al mondo, la quinta, la sesta. Un errore fatto in quel periodo, si pensò che fosse strategica l'energia e quindi a Leni e all'Enel fu riservata una condizione particolare, un'azienda che rimasero comunque, nonostante la privatizzazione, anzi con la privatizzazione, comunque aziende strategiche per il Paese, potremmo dire a controllo pubblico, a partecipazione pubblica, e infatti queste imprese hanno mantenuto una presenza italiana e internazionale di tutto rispetto, su cui oggi il Paese può far leva. Invece, in questo settore non si comprese quando fosse importante, più importante ancora in futuro, il settore delle telecomunicazioni, quindi del digitale, dell'interconnessione che poi successe, e i governi di allora fecero scelte diverse, sia per quanto riguarda il progetto Socrate, sia per quanto riguarda la privatizzazione di telecom. E oggi ci troviamo in condizioni di retroguardia, di difficoltà, proprio mentre, e mi chiamo un'evocazione fatta prima dall'assessore, il lockdown prima ha provocato un'accelerazione della storia, perché è stata un'accelerazione della storia, con il fatto che tutti ci siamo dovuti confrontare, perché costretti con il lavoro a domicilio, e l'accelerazione della storia e l'espansione del lavoro a domicilio ha provocato una grande vulnerabilità del sistema, perché è bastato penetrare un computer domiciliato presso proprio dal proprio fornitore o dall'impiegato per penetrare in tutta la rete. Siamo stati in affanno su questo. E poi, se permettete, anche l'invasione russa dell'Ucraina ha a sua volta fatto capire in che mondo siamo stati precipitati, dimostra il fatto che l'operatore privato che ha consentito agli ucraini di poter avere l'informazione più velocemente degli altri, ha utilizzato lo spazio e ha acquistato recentemente un Twitter, ci fa capire il mondo che abbiamo davanti a noi. Perché se gli ucraini stanno riuscendo a riprendersi eroicamente il proprio territorio, è anche grazie al fatto che riceve un'informazione in tempo reale che gli altri non hanno. L'informazione e il dato è diventato la risorsa fondamentale della società, dell'economia e anche della sicurezza e della difesa. E noi dobbiamo recuperare un ritardo quando eravamo alla vinguardia. E dobbiamo recuperare questo ritardo, lo dobbiamo fare in fretta e ne siamo consapevoli. L'altra esperienza che mi è stata utile, mi è utile nel comprendere come portare il mio contributo nella strategia che il governo realizzerà nei prossimi cinque anni, perché ve lo dico con molta consapevolezza, questo è un governo di legislatura, è un governo politico che nasce, a differenza degli altri che sono susseguiti nell'ultimo decennio, sulla base dell'espressione del voto popolare, espressione piena della nostra democrazia. Quindi è un governo che esce sulla base di un mandato popolare, è un governo politico, a differenza di quelli che sono susseguiti in questo decennio, ed è un governo di legislatura anche perché ha appunto una base parlamentare maggioritaria significativa. Ebbene, la mia seconda esperienza è quella che ho appena lasciato, quella del Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza Nazionale. E laddove, anche quando ero Vice Presidente all'inizio di questa legislatura, qual è stata la prima relazione al Parlamento del Comitato Parlamentare per la Sicurezza Repubblica quattro anni fa? La relazione sulla sicurezza nel settore delle telecomunicazioni sulla sicurezza informatica. E in quella relazione abbiamo, tra l'altro, chiesto al governo cosa che abbiamo ottenuto, di estendere la Golden Power al 5G. Perché su questo tema è sicuramente importante e significativo saper coniugare al meglio e spero che con la mia esperienza storica prima al commercio con l'estero nell'epoca della globalizzazione poi al copasi nell'epoca della deglobalizzazione possa coniugare queste troppi esperienze di riuscire in questo campo a coniugare al meglio la necessità della sicurezza nazionale con quella della realizzazione della competitività del sistema Paese. Le due cose devono andare insieme perché anche la competitività del Paese è un elemento fondamentale della sicurezza nazionale. Lo dimostra l'azione del Copasi al Parlamento quella sul 5G ma tutte le altre fatte durante la mia presidenza e anche con quella dei miei colleghi che mi hanno preceduto la relazione sulla sicurezza finanziaria e bancaria la relazione sullo spazio le due relazioni sul sistema energetico del Paese la relazione sull'industria della difesa come mai il Comitato si è occupato in questi anni di sicurezza economica, sociale, produttiva, finanziaria perché sono elementi fondamentali nell'epoca della deglobalizzazione nella sfida titanica che dobbiamo avere e possibilmente vincere nei prossimi anni tra le democrazie occidentali e i sistemi totalitari certamente le cose devono marciare insieme tanto più nel settore che vi riguarda e quindi noi avremo in questo settore inevitabilmente con la consapevolezza di essere un governo politico una strategia di politica industriale quella che sino ad oggi a mio avviso è mancata prima lo citava anche il sottocretario Butti nell'intervento o meglio nell'intervento scritto che ha mandato ci sono dei ritardi anche recenti che dobbiamo assolutamente colmare che risalgono a mio avviso agli errori commessi 30 anni fa ritardi nella realizzazione della rete che noi dobbiamo garantire sia nelle zone bianche quelle grigie non sarà una rete unica forse non lo può essere più in qualche caso però comunque della rete garantire affinché nessuno dei nostri cittadini resti indietro perché soltanto un sistema all'avanguardia interconnesso può consentire anche quella coesione sociale che noi dobbiamo assolutamente in questo momento mantenere anzi rafforzare nel paese quindi l'obiettivo è quello di realizzare prima possibile una rete che giunga anche nell'ultimo cosolare dell'ultimo villaggio peraltro voi lo sapete meglio di me prima veniva citato il settore industriale noi siamo il seconda potenza industriale in Europa la seconda potenza agricola in Europa dopo la Francia forse la terza nel settore turistico potremmo essere la prima potremmo diventare la prima se sviluppiamo meglio la banda larga la digitalizzazione del sistema l'innovazione del settore turistico cioè tutti i settori dell'economia reale possono crescere e debbono crescere tanto più nella vetrina di quello che può essere il Medinite nel mondo grazie alla migliore interconnessione grazie a una rete efficiente grazie alle capacità dell'impresa di utilizzare la rete e la digitalizzazione siamo indietro nell'utilizzo che le imprese italiane hanno del sistema di quello che voi potete fornire rispetto alla loro potenzialità e dato che l'Italia posso fare questo esempio un piccolo globo perché l'Italia è capace di fare tutto quello che serve in ogni settore dell'economia reale lo dimostra che siamo noi in classifica o nel podio sia sul turismo e i servizi sia sul settore agricolo sia sotto quello manufatturiero il che vuol dire che siamo un piccolo globo ed essendo un piccolo globo all'interno di un condominio quello europeo molto importante che dobbiamo tutelare e difendere noi siamo in condizione di reagire meglio agli stimoli e alle necessità di quello che riguarderà sicuramente la deglobalizzazione che abbiamo davanti a noi quindi bisogna assolutamente raggiungere l'ultimo utilizzatore finale nel più tebile tempo possibile recuperando le risorse ci sono anche all'interno del PNRR e non soltanto i ritardi accumulati in questi anni e qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere consapevoli che la rete è un bene pubblico noi abbiamo bisogno di una rete che sia anche a controllo pubblico questo riguarda sicuramente l'interconnessione del nostro paese ben consapevoli tra l'altro che l'Italia ha una posizione geopolitica direi geografica strategica per quanto riguarda l'interconnessione globale un aspetto che sicuramente noi attenzioneremo sarà anche l'interconnessione dei cavi marittimi dato che l'Italia è al centro della strategia globale dell'interconnessione di questo villaggio globale che in realtà non è più un villaggio globale perché la tecnologia che voi avete in mano porto questo esempio che però voi comprendete meglio di me quando noi aprimmo la Cina nel 2001 con la Cina in entrata del WTO io ero il delegato italiano nel novembre del 2001 a Doha nel Qatar quando noi aprimmo il WTO alla Cina in quel mondo la minaccia era ovviamente il fondamentalismo islamico aveva appena colpito il Tori Gemelli nel settembre 2001 in altro contesto e l'anno successivo non a caso a pratica di mare si cercò di coinvolgere la Russia nella governance della sicurezza globale altri anni la tecnologia la vostra tecnologia il villaggio globale insieme alla globalizzazione erano i due binari secondo cui noi pensavamo che le libertà dell'Occidente giungessero a Pechino e a Mosca e così stava accadendo e così accadde per circa dieci anni dieci anni fa qualcosa è successo quei sistemi hanno utilizzato la tecnologia e la globalizzazione per riprendere il controllo delle proprie società con un controllo assoluto della rete e anche li hanno utilizzati nel tentativo di condizionarci forse anche di controllarci probabilmente persino di sottometterci e per cui dobbiamo essere consapevoli che la stessa tecnologia può avere dei fini sicuramente di espansione della libertà e dei fini di controllo sociale politico se il sistema che lo utilizza è un sistema che tende al controllo della proprio diciamo al controllo interno e magari anche al controllo esterno di cui gli elementi di sicurezza estremamente importanti per quanto riguarda la rete e l'interconnessione dei cavi marittimi l'Italia può essere centrale nell'interconnessione dei cavi marittimi che legheranno l'Europa l'Occidente all'Africa e all'Asia e io credo che questo ruolo centrale del nostro paese vada al meglio sviluppato affinché la rete sia un elemento di forza del nostro paese lo può essere puntando io lo dico in termini prospettici all'autonomia strategica e quindi noi dobbiamo anche consentire non soltanto il reshoring in questo caso consentire la realizzazione del nostro paese di tutti quegli elementi critici nelle filiere produttive si porta l'esempio dei semiconduttori sicuramente dei chip che sono un alello fondamentale secondo la quale in mancanza del quale si blocca per esempio anche la consegna di un'autovettura al cliente che l'ha ordinata noi dobbiamo realizzare insieme alla nostra Europa quella autonomia strategica nel settore digitale che consenta alle nostre imprese di poter completare la filiera produttiva nel nostro continente e al nostro paese lo si può fare di assumere un ruolo fondamentale dell'autonomia strategica europea attraverso anche investimenti stranieri che noi gradiamo ovviamente sottoposti al controllo che la legge ci consente di fare attraverso lo strumento della Golden Power cosa voglio dire c'è bisogno di una strategia paese in questo paese più che in questo settore più che in altri settori perché è il settore fondamentale su cui ci musuriamo oggi e domani per costruire il futuro della nostra nazione questo governo ne è consapevole agisce come una squadra utilizzando tutti gli strumenti e certamente ascoltando le parti sociali produttive mi dispiace non poterle ascoltare in questa occasione ma credo che le parti sociali produttive abbiano compreso che lo scorso settimana nell'elaborare la manovra di bilancio in corso d'opera siamo saliti su un treno in corsa noi abbiamo incontrato tutte le parti sociali sindacali e produttive del paese a Palazzo Chigi e io faccio altrettanto ogni giorno su ogni questione strategica del paese perché credo che sia importante ascoltare e confrontarsi con quelle che sono le rappresentanze di questa straordinaria società che è la società italiana con i suoi corpi intermedi con le sue associazioni con i suoi sindicati e questo ci deve aiutare a elaborare la strategia paese in questo settore una strategia che punterà a realizzare al più presto la rete appunto con il controllo pubblico delle reti che punterà sicuramente anche a realizzare il nostro paese con l'economia digitale che ci permetterà di collaborare diciamo un ruolo da protagonista con le altre economie europee nel ricoprare i ritardi straordinari che l'Europa ha in questo campo sia rispetto agli Stati Uniti sia rispetto alla Cina io spesso cito la necessità che l'Europa e la nostra casa comune crei finalmente quei tre pilastri due dei quali li volevano creare i nostri padri fondatori quanto pensavano di costruire l'Europa sulla difesa comune e sulla autonomia strategica energetica ced e cieca poi non si realizzò nell'uno nell'altro oggi l'Europa la può ricreare o meglio può rinforzare la casa comune europea creando in corso d'opera se vogliamo i tre pilastri che mancano l'autonomia strategica sulla difesa l'autonomia strategica sull'energia riguarda anche questo settore non soltanto l'autonomia strategica sul digitale e questo credo che sia la nostra e la vostra scommessa nei prossimi anni in questi cinque anni di registratura il messaggio che vi volevo dare è questo non scendo nei particolari lo faremo poi via via ogni volta man mano che affronteremo le singole questioni voi siete inevitabilmente al centro della nostra attenzione perché sappiamo che qui in questo campo dobbiamo recuperare più tempo e più rispetto ad altri settori strategici del paese noi sappiamo che il nostro compito voi lo sapete con noi lavoreremo insieme buon lavoro a presto